da parte degli sposi, da parte di tutto questo splendido ristorante che è il vecchio castagno da parte di tutte le persone che stanno lavorando qua, compresi noi, fotografi, eccetera ma se non mi faccio prendere dal panico vorrei dire una cosa che per me è difficilissima perché non la dico a voce ma tenterò di dirla, insomma, da lingua dei segni ho imparato una piccola cosa, insomma, mi vergogno nel senso che farò un casino ma il cuore è buono Allora, ci provo Mi posso dar questo? Ok, vado, eh? Grazie